Questo video riguarda i migliori tre drenanti. Il vincitore della qualità è il Drenaforte Alpenatural. Drenante concentrato, combatte la ritenzione idrica e drena i liquidi in eccesso, facilita la diuresi ed elimina le tossine dal nostro corpo. Favorisce la circolazione sanguigna e riduce il gonfiore degli arti inferiori. Grazie ai principi attivi di 6 piante benefiche, Drenaforte ha proprietà depurative e detox. Il tarassaco stimola la diuresi, centella e pilosella hanno capacità drenanti, riducono la cellulite e il gonfiore delle gambe. Il piacevole aroma ai frutti di bosco ne facilita l'assunzione durante la giornata. Diluito in acqua contribuisce al fabbisogno di liquidi quotidiani che garantiscono le corrette funzioni dell'organismo. Diluisci 25 millilitri di drenaforte in almeno 500 millilitri di acqua naturale. Bevi la tua bevanda nell'arco della giornata. Benefici già dai primi giorni di assunzione. Se non riscontri effetti significativi aumenta il dosaggio a 50 millilitri da diluire in 1,5 lt d'acqua. NB 25 millilitri corrispondo a tre tappi del barattolo. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il drenante Diety Slim. Diety Slim è un integratore alimentare 100% naturale, la cui formulazione 9 piante dona molte delle proprietà naturali intrinseche al mondo vegetale, diuretiche, acceleranti il metabolismo e stimolanti. Favorisce la diuresi agendo sulla ritenzione idrica quindi, contro cellulite ed inestetismi localizzati. Diety Slim è un alleato naturale in un percorso dimagrante perché favorisce la perdita di volume. Infatti la diuresi elimina le tossine che potrebbero trasformarsi in grassi. Il tè verde accelera il metabolismo degli zuccheri, favorendo l'assorbimento dei grassi in eccesso e placando la fame. Per una migliore efficacia, il trattamento consigliato a base di Diety Slim ha una durata di 6 settimane ed uno flacone consente l'assunzione per 2 settimane al ritmo di 3 cucchiai al giorno. Abbiamo sviluppato un packaging eco-responsabile, rispettoso dell'ambiente per preservare il pianeta. Ogni giorno ci impegniamo a collaborare strettamente con piccole aziende locali per offrirvi dei prodotti etici, naturali ed eco-responsabili. Il vincitore del premio è il detox diuretico e drenante. Grazie agli ingredienti di origine naturale come il ribes nero, la pilosella o il guaranà e la sua combinazione ottimale, l'integratore detox favorisce la digestione, pulendo e migliorando il transito intestinale, il colon e il fegato ed eliminando le tossine accumulate nell'organismo. L'integratore detox contiene ingredienti come tè verde, ortosifone, erbe mate, tarassaco o papaya ricca di vitamina C e A. Il nostro integratore detox si presenta come uno sciroppo diluibile e odore frutti di bosco che, a differenza delle compresse, fornisce la massima concentrazione e purezza, per si rzreo l'assortimento dei principi attivi, riducendo l'irritazione intestinale che ti permette di agire con paggiore e fidata nella purificazione del nostro corpo oltre ad avere un dosatore. Integratori 100% naturali, con certificazione vegan della The Vegetarian Society UK. Prodotti nei laboratori CE, sono conformi ai rigorosi standard e processi produttivi ISO 9001, FDA americana, GMP. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.